La protezione civile, nella lotta al coronavirus, i nostri sforzi sono tutti concentrati nel supportare il lavoro eroico che medici ed infermieri stanno facendo da tanti giorni in tutti gli ospedali italiani. Attraverso la CROSS, che è la centrale operativa per la risposta alle operazioni di soccorso, il cui cuore pulsante è a Pistoia, abbiamo trasferito sin dal 7 marzo oltre 50 pazienti che erano all'interno delle terapie intensive degli ospedali lombardi per alleggerire la tensione all'interno di quegli ospedali e grazie al contributo del volontariato, dei mezzi aerei della difesa e del 118, ma soprattutto alla grande disponibilità delle altre aziende sanitarie nelle regioni italiane, siamo riusciti a fare questo grande sforzo e stiamo ancora continuando. Accanto agli ospedali stiamo allestendo delle strutture campali, sottotende che provengono da alcune organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni non governative. L'Associazione Nazionale Alpini ci dà la possibilità di allestire a Bergamo un ospedale da campo per poter gestire pazienti che provengono dalle strutture sanitarie di quella provincia. Attraverso il contributo della difesa abbiamo allestito un ospedale da campo a Piacenza e un altro lo allestiremo nelle prossime ore a Crema e ieri sera all'aeroporto di Villa Franca è arrivato l'ospedale della Samaritans, un'organizzazione non governativa americana che ci consentirà di avere un'ulteriore struttura campale con 60 posti letto e 8 di terapia intensiva nella provincia di Crema. Questo lo abbiamo fatto grazie al contributo dell'Emergency Medical Team, un'attività a cui abbiamo contribuito anche noi come Italia all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per costituire proprio delle strutture campali che in caso di emergenza possono essere impiegate.